Ciao a tutti, come farti amare davvero? Se vuoi farti amare davvero devi tenere presente una cosa molto importante. Questa cosa molto importante è che devi imparare ad interagire con la sfera emotiva di quella persona. Non tanto con la sfera logico-razionale, quanto con la sua sfera emozionale. Devi riuscire a comunicare. Perché l'amore dal profondo sgorga dalla parte emotiva. Non sgorga mai dalla parte emozionale. Questo è un dato di fatto che devi tenere presente, devi tenere sempre presente, sempre in considerazione. E allora, per farti amare davvero, devi capire quali sono le emozioni. Le emozioni che ha compresse la persona che ti interessa. Perché se tu le amplificherai, riuscirai a dare stimoli giusti. E questi stimoli giusti faranno sì che lui o lei si coinvolgerà con te. E dal profondo, questa persona sentirà l'esigenza di amarti. Dal profondo, questa persona sentirà l'esigenza di compiacerti. Di allinearsi a quelle che sono le tue esigenze. Di allinearsi a ciò che tu vuoi veramente. E allora, come fare a fare tutto questo? Bene, attraverso un'analisi indiretta. Devi tenere presente che i blocchi che una persona può avere sono questi. Sono la paura dell'abbandono affettivo, la paura del rifiuto, la paura di essere giudicati male. Quindi temere il giudizio negativo degli altri. La disistima in se stessi, i sensi di colpa. E poi il sentirsi inadeguati. O come uomo, o come donna, o come maschio, o come femmina. Poi possiamo temere anche altre cose. Possiamo temere di essere incapaci. Di non essere in grado di riuscire a fare le cose. Possiamo credere di essere sfortunati. Possiamo credere che c'è sempre qualcuno che ce l'ha con noi. E allora, e come facciamo a capire quali sono i tasti che dobbiamo andare a toccare? Bene, è molto semplice. Il corpo dell'altra persona ce lo comunica. Il corpo dell'altra persona ce lo dice. Ce lo dice se noi riusciamo a dare gli input giusti. Perché noi dobbiamo mettere degli input in scrittura e leggere che cosa avviene in risposta. Quindi andrò a parlare mentre parlo con l'altra persona in modo generico. Faccio un esempio. Dico, sai che il mio collega ha lasciato la moglie. L'ha proprio abbandonata. L'ha abbandonata dal mattino alla sera. Butto lì questa frase. E se noto che la persona che mi interessa si accarezza i capelli. O si tocca le labbra. Quindi da un gesto di gradimento emotivo viene in avanti. Allora significa che lei teme questa persona. Teme fortemente l'abbandono. E l'abbandono, chi gli fa vivere un po' di abbandono, o gli dà la sensazione che potrebbe abbandonarla, la coinvolgerà e la farà innamorare inesorabilmente. E quindi inizierò a mettere in atto delle strategie di abbandono. Ogni tanto, anche piccole, farò magari, terrò il cellulare spento, non mi farò trovare. Mi dimostrerò un po' indifferente nei suoi confronti. E come metterò in atto tutta questa serie di strategie in modo tale da acquisire subito potenziali. Farmi innamorare veramente. Far sì che si innamori di me veramente dal profondo. E poi ovviamente devo fare questo con tutte le cose che ho detto prima. Perché non ho detto che tutte le persone abbiano tutto. Devo capire esattamente con la persona come devo muovermi. Quali sono le emozioni che devo stimolare. Quali sono i tasti che devo andare a toccare. Bene, questa è una strategia molto efficace. Adesso ho dato soltanto un'infarinatura. Comunque se vuoi imparare a eliminare la paura dell'abbandono per te e se dure chi vuoi, puoi venire domani, venerdì 9 marzo, Torino, ore 20.45, corso 30.13, educatore della providenza. Farò un seminario proprio su eliminare la paura dell'abbandono affettivo per conquistare chi vuoi. Riferimento al 333 15 11 703. Bene, per questo video è tutto. Iscriviti al canale se il video ti è piaciuto. Condividilo con i tuoi amici. E mi raccomando, metti un like. Ciao! Ciao!